Per la WIBA c'erano davvero tutti. Bagno di pubblico per la festa del primo giorno. Un migliaio di persone hanno salutato la partenza della nuova stagione sia durante l'allenamento sia con l'aperitivo che ha unito squadra e tifosi nella prima serata bustocca al Palayama Mai. È una WIBA che sembra già avere gli artigli insieme al piccolo ospite che in questi giorni ha preso casa in Viale Gabardi. Allora Federica, un nuovo inizio. Quali sono queste prime sensazioni nel giorno del raduno? Vabbè, sicuramente oggi è una giornata un po' particolare. Ci dedichiamo al lavoro, però c'è un gruppo nuovo, tante le conosco di guai e di là dalla rete. Quindi cerchiamo già di fare il gruppo noi per trovare il giusto feeling che poi verrà fuori anche in campo. L'anno scorso hai fatto una stragione da protagonista. Cosa c'è da mettere in campo quest'anno per riuscire a ripetersi e fare ancora meglio? Sicuramente la voglia di riscatto che avevamo l'anno scorso, spero ci sia anche quest'anno. Sono un gruppo più giovane, però vedo tanto il potenziale, tanto altezza e tanta voglia. L'importante è incanalare bene le energie, tutte nella stessa direzione. E questo è un scotch del capitano? No, vabbè, io sono contentissima, assolutamente. E vabbè, vediamo, dai, tanto il mio ruolo, nel senso, in campo devo darmi un tributo comunque. Ma sì, è un'emozione, quello sicuramente. Ecco, davanti alla curva, davanti a tutti sarà una grossa emozione. Quanto sei contenta di avere questa nuova opportunità e quanto stai un po' toccando ferro, sperando che davvero tutto questa volta possa andare bene? Vabbè, quello io spero sempre che vada tutto bene, ovviamente. Sono contentissima perché, come ho sempre detto qui, mi sento come a casa. E quindi sono felicissima di iniziare adesso e non in ritardo, come al solito, la preparazione con le mie compagnie e sono felicissima. Come libero avrai la vita un po' più facile, considerando che forse quest'anno la seconda linea è un po' più forte, un po' più attrezzata a livello difensivo. Ma sicuramente a livello di ricezione abbiamo fatto un passo in avanti con Alessia, Gennari e Barsche, che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Io ero tranquilla anche l'anno scorso, diciamo. Non ho tanto bisogno di avere sicurezze, perché cerco di crearmele da sola. Però sono sicura che riusciremo a impostare un ottimo lavoro di ricezione che poi alla fine è il primo tocco di palle, quello che più conta. Vittoria, quante emozioni c'è quest'oggi all'inizio di questo raduno? Beh, essendo una nuova esperienza, sono molto emozionata e abbastanza nervosa perché dobbiamo cominciare subito alla grande, secondo me. Però sono davvero felice di stare qua. Cosa ti mette più agitazione? Non conoscere completamente l'allenatore che ci allenerà adesso e sinceramente nient'altro, forse anche il pubblico, che non sono abituata.